le nabbi della madonna parco il cazzo della logistà di Cristo attenzione, capsula assistenza in arrivo si che non riusciamo a fare una partenza decente faccio un po' di cose, un po' di armi comunque lo guardo streamare è veramente bello quando sei forti adesso l'audio è buono, non mi si stacca più no? i nemici vanno eliminati senza fretta, altrimenti che gusto c'è? ma che pacco di fighetta che c'è? minchia la banda da flash oh ma c'è un pacchettone davanti questo è il tuo campione sono la jump master, seguitemi sono la jump master, so cosa fare bene, sono la jump master questo potrebbe essere un buon posto per atterrare anche no questo potrebbe essere un buon posto per atterrare preparatevi, ci muoviamo già siamo sui due mi serve uno scudo corporeo ecco il prossimo anello non è vicino la battaglia arriva d'improvviso fatevi trovare pronti bene, dico, c'è il tuo quello per 3 minuti un minuto alla chiusura dell'anello abbiamo un nuovo leader uccisioni nuovo leader uccisioni stiamo attenti attivo il salto quantistico 45 secondi l'anello montano il quantum leap mi servono munizioni energetiche la mia figlia a cui piccola che stranutisce in più scorreggia e proprio mi fa certo l'anello è dietro l'angolo restano 10 secondi metà squadra eliminate questa gente muore alla velocità della luce attenzione l'anello in movimento ascoltate l'anello si sta muovendo ho arrasciato dei materiali qui c'è uno scudo Evo livello 2 tutto mio attivo il salto quantistico attenzione la fine tanto buona la roba sentite una capsula assistenza ho raccolto dei materiali qui c'è un kit medico qui c'è un otturatore per shotgun livello 4 sto ricaricando gli studi mi appresto ad eseguire un salto quantistico attenzione c'è un nuovo leader uccisioni c'è un nuovo leader uccisioni non vedo l'ora di fare la sua conoscenza ho trovato dei materiali nuovo leader uccisioni interessante mi appresto ad eseguire un salto quantistico ecco il tuo regalo di compleanno qui c'è un ottica qui c'è una siringa andiamo da quella parte qui c'è uno zaino qui c'è un ottica cecchino qui c'è un ottica qui c'è un ottica attenzione c'è un nuovo leader uccisioni nuovo leader uccisioni occhi aperti nuovo leader uccisioni occhi aperti cicciottello cicciottonello buongiorno buongiorno porco me non siamo tutti nell'anello controllate le vostre posizioni d'accordo